Sui soggetti attuatori direi che ci sono performance diverse, abbiamo analizzato tutti i progetti anche in relazione agli attuatori, quindi ponendo in evidenza quelli che sono coloro che si sono cimentati, diciamo così, in progettazione che avesse a che fare con le pari opportunità tra il 2000 e il 2006, vengono fuori, appunto, come vi dicevo, performance diverse, però in generale si può dire, appunto, che non c'è una fortissima presenza di progettisti con competenze specifiche in materia di pari opportunità, sia in quei soggetti che operano, li ho chiamati generalisti, cioè che operano su più misure, quindi che non sono specializzati su questo tema, ma anche su soggetti attuatori che invece si propongono come soggetti che lavorano in questi ambiti. Su questa tematica, anche in questo caso, si tratta di una tendenza nazionale, nel senso ci fu anche un interregionale nella passata programmazione del 2000 e 2006 che proprio andava a esplorare quella che poteva essere la figura di un progettista di formazione che avesse anche competenze di pari opportunità e che riuscisse comunque a introdurre l'ottica di genere nei progetti, perché è comunque una difficoltà su cui ci si scontra, non soltanto qui ovviamente, ma in tutte le regioni. Credo che su questo bisogna sicuramente riflettere ancora e sicuramente l'esperienza dell'interregionale della passata programmazione potrebbe essere rilanciata ulteriormente. Dal punto di vista qualitativo, così cerco di stare nei tempi come mi è stato chiesto, vi dicevo che sul campo abbiamo fatto un'analisi di dieci progetti che abbiamo appunto seguito e che abbiamo indagato attraverso interviste dirette, qualitative, con i responsabili, con i soggetti che li avevano messe in atto e anche con il partenariato a volte che era stato coinvolto nelle attività. I progetti sono stati scelti rispetto a quei progetti che avevano avuto un punteggio maggiore nella selezione, quindi ci dava l'idea che potevano essere progetti che comunque contenevano già alcuni elementi di interesse. Devo dire che ci sono diverse buone pratiche che rappresentano sicuramente un buon punto di partenza per le progettazioni future, per mettere a sistema le esperienze già consolidate sul territorio. Rispetto al contesto locale va sicuramente sottolineato il particolare interesse che ci hanno suscitato anche i progetti volti a sostenere le microeconomie locali attraverso il recupero e il rilancio, tutte le attività di valorizzazione delle risorse territoriali, attività integrative, di ricettività turistica, in cui produzioni tipiche, un progetto interessante che abbiamo visto sulla produzione tipica di formaggi in vari comuni della valle, che sono progetti particolarmente interessanti anche per la nuova programmazione, sia perché gli aspetti che sono stati introdotti nel QSN rispetto alle pari opportunità di genere nei tanti tavoli del negoziato hanno messo in luce proprio da parte del Dipartimento pari opportunità questi aspetti come aspetti che riescono a coniugare lo sviluppo del territorio con appunto la importanza della valenza femminile, sia perché possono anche rappresentare un momento di scambio tra fondo sociale e fondo di sviluppo regionale, che come sapete nella programmazione 2007-2013 è uno dei punti di novità, di innovatività, che può dare sicuramente prestigio alle attività che possono essere messe in campo. Quindi sicuramente partire dalle esperienze, perché le esperienze fatte sono di sicuro interesse, molto interessanti anche le iniziative che sono state volte a favorire la conciliazione vita lavorativa e vita familiare, molte di queste sono state già inserite nel catalogo nazionale delle buone pratiche del fondo sociale e quindi la regione Val d'Aosta è presente proprio con queste attività di conciliazione, oltre ad altre ovviamente in questo aspetto, sono state anche oggetto di gemellaggio nell'ambito di un progetto promosso dal Dipartimento del pari opportunità per il Consiglio di Ministri con altre regioni che su questi temi non stavano o comunque avevano iniziato a lavorare da poco e altro elemento che mi sembrava interessante da sottolineare era quello della continuità assicurata al termine del sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo, che è uno dei tanti nodi che ci si pone ogni volta, ma poi come va a finire una volta fatta l'attività. Su questo cito uno per tutti il progetto sperimentiamo il nido che ha promosso il nido azientale nella USL qui della regione Val d'Aosta, che è un'attività che è stata sviluppata su più annualità e che appunto ha messo in atto questo nido di cui adesso usufruiscono ad oggi 24 bambini con domande già per 50 bambini, quindi a pieno regime e che una volta terminati appunto i fondi del Fondo Sociale è adesso pagato direttamente dall'amministrazione, quindi sicuramente una buona pratica anche rispetto alla sostenibilità nel tempo delle azioni promosse mediante il Fondo Sociale Europeo. Quindi in sintesi e chiudo, così ho rispettato i tempi. Poi ovviamente se qualcuno ha domande più specifiche nessun problema, io sono qui tutta la giornata. Alcune indicazioni su cui in questo quadro comunque ovviamente di positività mi sembra che possano dare un ulteriore valore aggiunto allo sforzo che l'amministrazione, l'autorità di gestione può dare anche nella programmazione 2007-2013. Quindi ovviamente continuare lo sforzo intrapreso soprattutto per attuare il principio di mainstreaming all'interno di tutti gli obiettivi specifici. Quel 293 progetti che abbiamo visto 2000-2006 è veramente un dato forte che sarebbe bene replicare nel 2007-2013. Il discorso sul sistema di selezione ex-ante lo vedrei proprio in relazione al contatto e alla crescita del sistema dell'offerta formativa, quindi alla crescita dei soggetti attuatori. Quindi provare a dare una maggiore enfasi a una caratterizzazione, un'esplicitazione maggiore dei criteri. In molte interviste ci siamo trovati anche davanti alla difficoltà di alcuni soggetti di capire realmente che cosa si intendeva per quel criterio pari opportunità, che cosa realmente si doveva mettere, che cosa realmente si doveva inserire. Quindi si potrebbe ad esempio ipotizzare un supporto alla progettazione, sarebbe un'azione sicuramente innovativa, una possibile azione di sistema da introdurre nel periodo 2007-2013 proprio in un'ottica di pari opportunità come supporto a coloro che devono progettare anche in un'ottica di genere e potrebbe essere un'azione anche di continuità che potrebbe essere sviluppata a livello interregionale, visto che è comunque una tematica, guardo proprio tecnostruttura che mi fa già no con la manina, potrebbe sicuramente una tematica presente in altre regioni. Così come incrementare la diffusione delle buone pratiche già sperimentate, anche questo nonostante un territorio piccolo, molte degli intervistati non sapevano dell'esistenza di altre pratiche che sul territorio stavano già agendo. Quindi anche in questo senso ovviamente nei comitati di sorveglianza si usa segnalare di volta in volta alcune buone pratiche, magari su questi aspetti specifici, visto anche la difficoltà degli enti a progettare su questi aspetti, magari far vedere che cosa di buono è già stato fatto, visto che sono state fatte molte cose interessanti, può essere sicuramente significativo. Grazie.